4, 3, 2, 1, vai! 30, destra 3, in destra 2 più, in sinistra 3 tieni, 20, sinistra 3, lunga tieni, subito destra 2, 2, tempi, 30, sinistra 3, 200, dai! 6, attenzione stai a sinistra, scicane entra a destra, e subito sinistra 2, gira! Per destra 3, apre, 50, attenzione stai a destra, e subito tornante sinistro! 80, destra 2 tieni, subito sinistra 3, 30, destra 3, In destra 2 più, in sinistra 3 tieni, 20, sinistra 3 lunga tieni, subito destra 2, 2, tempi, 30, sinistra 3, 200, bravo Ale, dai! Attenzione stai a sinistra, scicane entra a destra, e subito sinistra 2, gira! Per destra 3, per destra 3, apre, 50, attenzione stai a destra, e subito tornante sinistro! 80, destra 2 tieni, subito sinistra 3, 30, destra 3, in destra 2 più, In sinistra 3 tieni, 20, sinistra 3 lunga tieni, subito destra 2, 2, tempi, 30, sinistra 3, 200, attenzione stai a sinistra, scicane entra a destra, subito sinistra 2, gira! Per destra 3, per destra 3, apre, 50, attenzione stai a destra, e subito tornante sinistro! 80, destra 2 tieni, subito sinistra 3, 30, destra 3, in destra 2 più, Occhio, occhio, bravissimo, in sinistra 3 tieni, 20, sinistra 3 lunga tieni, subito destra 2, 2 tempi, 30, sinistra 3, 200, attenzione stai a sinistra, scicane entra a destra, e subito sinistra 2, gira! Per destra 3, per destra 3, apre, 50, attenzione stai a destra, e subito tornante sinistro! 80, destra 2 tieni, subito sinistra 3, 30, destra 3, in destra 2 più, Oh, codio! Bravo! In sinistra 3 tieni, 20, in sinistra 3 lunga tieni, subito destra 2, 2 tempi, 30, sinistra 3, 200, attenzione stai a sinistra, scicane entra a destra, e subito sinistra 2, subito sinistra 2, Per destra 3 apre, 50, attenzione stai a destra, e subito tornante sinistro! 80, destra 3 tieni, subito sinistra 3, ripeto subito sinistra 3, 30, destra 3, in destra 2 più, In sinistra 3 tieni, 20, sinistra 3 lunga tieni, fai passare la macchina, subito destra 2, 2 tempi, 30, sinistra 3, 30, sinistra 3, 200, bravo Ale, dai, attenzione stai a sinistra, la scicane entra a destra, e subito sinistra 2, per destra 3 apre, 50, attenzione stai a destra, Subito tornante sinistra, 80, attacca dai Ale, destra 3 tieni, subito sinistra 3, 30, destra 3, In destra 3, in destra 2 più, in sinistra 3 tieni, 20, sinistra 3 lunga tieni, subito destra 2, 2 tempi, 30, sinistra 3, 30, sinistra 3, 200, attenzione stai a sinistra, la scicane entra a destra, poi vai 50 dritto, dopo la scicane dritto, sinistra 3, in sinistra 3, 2 tempi, 9, 22 e 76, migliorato di 9 secondi, bravo.